Definito il paniere di prodotti che sarà possibile assaggiare ed acquistare domani sera, sabato 6 agosto, a Sala Consilina, presso Piazzetta Garibaldi, dove torneranno le aziende agricole locali con i loro prodotti per il nuovo appuntamento con Agricola Vallo di Diano e il mercato contadino. Un evento itinerante fortemente voluto dal Gal Vallo di Diano, presieduto da Attilio Romano, per dare l'opportunità a produttori locali di farsi conoscere e avviare un proficuo contatto tra produttore e consumatore. L'intenzione del Galli, infatti, è quella di far sì che il mercato contadino itinerante possa diventare un evento che possa svolgersi regolarmente in appuntamenti prestabiliti e far sì che i consumatori possano recarsi presso gli stand del mercato contadino ben consapevoli di trovare esclusivamente prodotti genuini, attentamente controllati, a chilometro zero. Prodotti che sono frutto della terra del Vallo di Diano, coltivati e controllati per garantire la massima qualità. Domani, a partire dalle ore 17.30 fino alle 23 in Piazzetta Garibaldi a Sala Consilina, torna il mercato contadino nell'appuntamento serale che, trascorrendo una piacevole serata nella suggestiva piazzetta del centro salese, consentirà anche ai visitatori di poter assaggiare prodotti speciali, frutto del lavoro attento e meticoloso delle aziende agricole locali che puntano su qualità e genuinità. Lo sviluppo del territorio parte anche dalle produzioni agroalimentari come nuova fonte di imprenditoria che sia capace di creare occupazione e possa anche attrarre interesse fuori dai confini territoriali. Si parte con il progetto che il Gal Vallo di Diano punta a far diventare sempre più importante e consapevoli del valore e della qualità dei prodotti locali. Valore che domani sera, a partire dalle ore 17.30, potrà essere toccato con mano dai visitatori che avranno la possibilità di assaggiare gratuitamente i prodotti inseriti nel paniere della serata, tra ortaggi, farine e cereali, pane, pasta, biscotti, taralli, prodotti sott'olio, olio evo, spezie, legumi, salumi, marmellate, tutti prodotti che potranno essere assaggiati a sala Consilina domani sera a 6 agosto e magari acquistati. Nel corso della serata, inoltre, come in ogni appuntamento, previsto uno show cooking nel corso del quale Antonella Petitti presenterà una ricetta preparata esclusivamente con prodotti del mercato contadino. Grazie a tutti.